Finché la mano e la mente ti guideranno, non smettere mai di amare la vita. Anche se aiuterai una sola anima, non avrai vissuto in vano. Non guardare gli uomini piccoli che ti girano intorno, ma guarda l'uomo grande che è in te. Vivi apprezzandoti e fai silenzio, vedrai che ritroverai la calma e la serenità. In mezzo al rumore non si avvertono né i respiri né i sospiri delle persone che ti vogliono bene. Fai in modo di non sentire la cattiveria degli uomini, ma di apprezzare la loro bontà. Romano Battaglia, il fiume della vita. Le parole della fede. Una produzione Radio Più Roma.